allora devo farvi vedere un po come a bordo la vita si svolge allora questo è l'autopilota perfezionato da me su quello che aveva fatto bruno non è una grande invenzione ma l'albero di mezzana con la veletta che stabilizza così è quasi sempre incazzata perché sennò sventa la randa qui c'è il materassino cime varie vettovaglie il telo che ci serve da tenda qualche parabordo qui abbiamo tantissima acqua bottiglie di plastica che riempiamo di nuovo una batteria da 9 ampere che viene ricaricata da dal pannello solare che abbiamo qua che adesso è all'ombra la cassettina di roland fantastica che tiene dentro un po di tutto che è un'opera d'arte giubbotto autoconfiabile che esploso sotto l'acqua quando c'è stata l'onda adesso sto andando di là i remi bellissimi con tutto il curame i perni che si consumano giornalmente questo liquido nero viene giù e poi niente quello di ha fatto l'italiano l'ha rotolato oggi siamo a vela quindi come vedete dalla randa che è bella su abbiamo un buon vento in poppa che ci porta giù e poi basta qui c'è la deriva i bozzelli di roland bellissima sono messo male questo i remi e poi di solito ci stravacchiamo qua quando c'è vento e godiamo della della comodità se no siamo siamo assolutamente boccati qui ci abbiamo sempre la nostra bella carta e basta ok vi saluto e a presto questa è la nostra vita a bordo